Ma a cosa serve la cipria? Questo è Disaster Makeup La cipria è una polvere che possiamo trovare o bianca oppure di un colore simile al nostro incarnato Può essere in polvere oppure compatta Ma a cosa serve? Innanzitutto fisso il fondotinta rendendo il nostro incarnato molto più uniforme Ma è anche in grado di opacizzare la pelle, soprattutto se l'avete un po' lucida Quindi sarebbe ideale usarlo quando il fondotinta fa fatica ad asciugarsi Infatti la cipria aiuta ad assorbirne la componente liquida È molto utile se si ha anche una pelle che durante la giornata tende a diventare lucida E adesso capisco quando nel film dico Aspetta devo andare un attimo a cipriarmi il naso È utile anche quando ombretto e correttore tendono a infiltrarsi nelle pieghe d'espressione Oppure sopra la nostra palpebra Creando questo effetto antiestetico Beh un po' di cipria lo toglierà Et voilà, le pieghe non ci sono più Infine è anche molto utile se si vuole realizzare un make up molto elaborato Infatti qualche passata strategica di cipria garantirà una tenuta perfetta di ogni singolo strato di make up E tu come usi la tua cipria?